Un atteggiamento davvero irresponsabile, incosciente, che mette a repentaglio il Paese in uno dei momenti più difficili per l'Italia, con una guerra nel cuore dell'Europa, una pandemia che non è ancora finita, un'emergenza energetica con un scenario autunnale davvero preoccupante per le cittadine e i cittadini è un partito per ragioni incomprensibili, tattiche, elettorali, fa un'operazione davvero sbagliata, certamente contro l'interesse del Paese e contro soprattutto qualunque norma di buonsenso. Questo era proprio il momento in cui invece questo governo del Presidente Draghi andava rafforzato da tutti, perché è un momento troppo difficile per l'Italia in Europa. Ovviamente mi pare davvero ancora più incosciente andare a elezioni in autunno, abbiamo dossier troppo delicati, dobbiamo come amministratori locali, questo è un sentimento che oltre che mio è davvero credo di quasi tutti i sindaci italiani, in un momento così complicato di messa a terra degli investimenti per circa 200 miliardi di euro che cambieranno la vita dei nostri cittadini e il Paese, andare a elezioni politiche è davvero da irresponsabili e non è un caso che infatti oggi il Presidente Mediev abbia esultato per quello che sta capitando in Italia. Auspico davvero che vi sia un reincarico al Presidente Draghi, che Draghi possa continuare a traghettare il Paese almeno fino alla scadenza naturale. Credo davvero che occorra buonsenso da parte delle forze politiche, uscire da tatticismi esasperati che in questo momento rispondono solo a logiche di palazzo, a logiche di potere, a logiche di posizionamento personale e l'ultima delle cose che sembra interessare ai partiti a Roma, nei palazzi romani, è l'interesse delle italiane e degli italiani e questo è davvero inaccettabile.